L'ultima storia a cui sto lavorando è quella scritta da Giovanni Hecker per Dylan Dogg ed è il mio terzo album, anche se ne è uscito solo uno per la serie regolare, ho consegnato il secondo e sto chiudendo in questi giorni proprio il terzo. Un personaggio o un fumetto che avrei voluto disegnare e che spero disegnerò è una storia a cui sto lavorando e di cui sono autore completo, quindi i personaggi saranno disegnati e scritti da me in questo caso ed è un progetto in corso, in realtà ancora top secret quindi non posso dire nient'altro per adesso, speriamo di poterlo fare presto. Un personaggio invece esistente che mi piacerebbe trattare prima o poi sarebbe Batman. Il Cagliaro Oscuro è da sempre stato il mio primo amore ma in età non sospetta, diciamo che c'è un aneddoto su questa cosa che ho tirato fuori già in occasione della mostra Città di Castello su Batman a cui ho partecipato un'illustrazione che è stato il primo film che ho visto al cinema, Batman di Dean Barton avevo cinque anni e pare che io sia stato con la bocca aperta durante tutta la proiezione che era una cosa inusuale per il mio bambino. Sono tornato a casa e non ho più smesso di disegnare quindi direi Batman. Ciao! 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 Grazie per la visione!